Sul polio dei mari più puliti in Italia troviamo la Puglia e a seguire Sardegna e Toscana. A stilare la classifica è il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, sui dati delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, gli enti pubblici che, insieme a Ispra, formano il sistema. La classifica continua con Emilia Romagna e Veneto, tra le prime cinque, e a seguire le altre regioni. Fanalino di coda l'Abruzzo con una qualità dell'acqua del 71,9%, con circa 20 punti in meno rispetto al livello di eccellenza che si attesta al 90%. La valutazione si basa su circa 30.000 campioni prelevati nei mari e nei laghi italiani, un lavoro che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ripete ogni anno sulle acque di balniazione che vengono sottoposte a periodici controlli per garantire la salute dei bagnanti. A preoccupare il dato sul surriscaldamento del mare, le temperature superficiali del Mediterraneo sono di circa 4-5 gradi centigradi superiori alle medie stagionali, come rilevato dall'Agenzia Spaziale Europea con la partecipazione per l'Italia di CNR ed Enea. E nel sud del Tirreno il CNR ha registrato 30 gradi, una temperatura definita tropicale. A determinare il riscaldamento del Mediterraneo è il cambiamento climatico dovuto al crescere della quantità di anidride carbonica in atmosfera, conseguenza del nostro consumo di combustibili fossili come carbone, metano e petrolio.